Gli unici dati per decretare la balneabilità del mare sono quelli certificati dalle varie autorità competenti regionali. In Abruzzo c'è l'Arta che svolge analisi ripetute durante il periodo estivo. Il campionamento di coletta verde di Lega Ambiente lungo la costa abruzzese fatto in un giorno solo, per la precisione il 18 luglio scorso, ha un altro obiettivo, quello cioè di individuare le criticità dovute ad una cattiva depurazione in punti specifici come foci di fiumi e torrenti. I risultati delle analisi presentate oggi confermano queste criticità su otto campionamenti effettuati dai volontari di coletta verde, due nella provincia di Termo e Pescara e quattro in quella di Chieti. La metà sono risultati oltre i limiti di legge, come conferma il presidente di Lega Ambiente Abruzzo, Giuseppe Di Marco. Abbiamo delle criticità storiche che dobbiamo risolvere. Si sta facendo tanto nella giusta direzione, ovviamente anche gli investimenti che arriveranno sui contratti di fiume, colpione nazionale di presa e resilienza, ci daranno ulteriori mezzi per intervenire in questa direzione. È chiaro che dobbiamo guardare tutto in un occhio di sistema, sia per combattere l'inquinamento dei nostri fiumi, delle nostre acque, ma anche per mettere in campo quelle azioni di medicazione, adattamento ai cambiamenti climatici che purtroppo ci portano sempre più verso un'emergenza attiva. Ambiente e mare soprattutto a tutto tondo, c'è questa iniziativa legata alla salvaguardia dei delfini? Sì, è un life che tiene dentro un ragionamento che va da un lato sulla tutela dei delfini e dall'altro di andare anche incontro ai pescatori, cercando di mitigare appunto questo rapporto perché dobbiamo dare anche termini di sostenibilità economica e sociale al nostro territorio. Alla conferenza presente tra gli altri il direttore generale dell'Arta, Maurizio Dionisio, che ha risposto alla classifica pubblicata dal sito Corriere.it, che prendendo in esame il quadriennio 2018-2021, assegna all'Abruzzo l'ultimo posto sulla qualità delle acque di balneazione italiana. Il dato non è assolutamente condivisibile perché vengono comparate metodiche tra regioni, tra le regioni d'Italia, che tra di loro sono estremamente diverse. I punti di prelievo in Emilia-Romagna sono diversi dai punti di prelievo che la regione stabilisce in Abruzzo. Questo è il fatto. Noi abbiamo un mare eccellente, ma facciamo i prelievi anche in prossimità di fossi, foci e torrenti che taluni sono storicamente con acque di qualità scarsa e a noi incide sulla media. In altre regioni evitano di andare nei punti critici e quindi vengono effettuati i prelievi, sono le zone che vengono considerate ottimali per la balneazione. Questo è il motivo. È una graduatoria, è una classifica assolutamente non attendibile.